Perché non c'è il rossetto su questo bicchiere? La Caddy aveva il rossetto quando ha bevuto il caffè. Sulla mia faccia c'era. Perché non c'è sul bicchiere? Perché è sempre la cosa più logica nel paese di Haus prendere un problema emotivo e per evitarlo trasformarlo in un problema meccanico. Perché nel paese di Haus, come nel resto dell'universo, quando ci si pone un problema si cerca una risposta? Se l'emisfero sinistro è l'interprete della realtà, se è quello che ci racconta la storia di chi siamo, allora qual è la tua storia? Vuoi essere l'uomo con le risposte o vuoi essere l'uomo con la Caddy? Cosa faccio? Devi farla arrabbiare. Trovi che sia il momento per prendermi in giro? Io sono sorpreso quanto te, ma penso di essere serio. La comunicazione non può cominciare se non siete entrambi... Ho cercato di farla arrabbiare. No, non l'hai fatto. Andiamo. Pupù, spogliare listi, roba da routine. Ti sei frenato. Hai paura. E fai bene. Forza. Va a terrorizzarla. Forza. 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 Forza.